Il dato aggiornato di nuovi positivi da Covid-19 in Campania viene indicato in 46 unità, in particolare il quotidiano bollettino sottolinea che si tratta di 5 persone provenienti dall'estero o contatti di precedenti casi di rientro e 8 casi derivanti dallo screening connesso alle strutture ricettive di Sant'Antonio Abate. I tamponi effettuati sono stati 3.389, non si registrano ad eccessi e due persone sono guarite. Continuano gli screening e le segnalazioni delle persone di rientro dall'estero che sono obbligate a segnalarsi alle ase di competenza. Per un totale dal giorno 13 di 7.315 segnalazioni di rientro e 3.318 telefonate di informazioni. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 2.390 tamponi e 125 test sierologici. Ma nel pomeriggio di ieri il governo ha emanato anche un decreto con il quale ha chiuso le discoteche su tutto il territorio nazionale fino al 7 settembre. E in particolare il governo ha deciso di sospendere le attività di tutti i locali sale d'abballo e locali assimilari a partire proprio dal 17 agosto. La decisione che avrà effetto almeno fino al 7 settembre è arrivata nel pomeriggio di domenica quando i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo Economico Roberto Speranza, Francesco Bocce e Stefano Patonelli si sono uniti in videoconferenza con i governatori regionali. Nel testo dell'ordinanza è chiarito che non sono ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale. Il governo ha deciso anche una nuova stretta sull'uso delle mascherine su tutto il territorio nazionale. L'uso dei dispositivi di protezione individuali torna obbligatorio anche all'aperto negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici, piazze, slarghi e vie, dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti.